L'incidente mortale nella notte a Prato Perillo di Teggiano, a perdere la vita un ventenne di Sala Consilina. Lo scontro è avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale Teggiano-Polla, nel tratto che collega Prato Perillo di Teggiano a San Pietro Altanagro. Tra le vetture coinvolte, un alfa mito su cui viaggiava il giovane di Sala Consilina, una Volkswagen Golf con a bordo un uomo di 45 anni che stava rientrando a casa, ed una BMW con a bordo altri due ragazzi. Le tre auto viaggiavano in direzione San Pietro Altanagro quando si è verificato l'urto fatale. Ad avere la peggio il giovane di Sala Consilina, Mariano Casale. Non sono ancora ben chiare le dinamiche dell'accaduto. Scene drammatiche, immagini scioccanti per i soccorritori giunti sul posto. Tra i primi ad intervenire, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che alla guida del caposquadro esperto Luigi Morello, hanno effettuato le operazioni per liberare il corpo del ventenne. Sul posto inoltre i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, al comando del capitano Davide Acquaviva, che sono stati impegnati in una lunga serie di rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente che ha provocato la tragica morte del ventenne. Immediato anche l'intervento dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far nulla per il ragazzo che viaggiava a bordo della Mito, morto sul colpo a causa del violento impatto. Solo ferite per i ragazzi a bordo della BMW, grazie probabilmente agli airbag che hanno protetto l'abitacolo. Ferito e sotto sciocchi invece il 45enne a bordo della Golf, tutti trasportati presso il vicino ospedale di Polla. Anche la salma del giovane deceduto è stata successivamente trasferita presso il Luigi Curto, dove resta tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrebbe disporre l'autopsia sul corpo. Tra i primi a raggiungere il luogo dell'incidente è anche il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Notte di angoscia e sgomento per quanto accaduto su un'arteria che ormai da anni viene considerata particolarmente pericolosa e che purtroppo continua ad essere negli anni teatro di terribili incidenti in cui troppo spesso si raccontano di giovani vite spezzate.